Eccoci ancora qui ragazzi per la sesta parte della mega big strabiliante, unica, fantastica opening e continuiamo con altri 10 pacchetti alle precedenti aperture sono stato tantissimo fortunato, proprio tanto speriamo di continuare così anche per la sesta e la settima parte sempre i codici per voi al contrario allora Team Plasma Ball Maguire Palpitod Starly Ponyard Dratini Whooper Sneasel Cryogonal Reverse e Mr. Maim Raro Procediamo Procediamo Allora Città Congelata Kakuna Lanthorn Time Pole Ponyard Pacerisu Ivy Utut Trico Reverse We Whale We Whale We Whale We Whale Raro Procediamo Procediamo Le parti che mi mancheranno li recupererò in altro modo. Allora, energia plasma, poi pietra lieve, crocoroc, yamask, time pole, beldum, voltorb, pacirisu, dratini reverse e sablai raro. Codice, sempre il contrario. Allora, flareon, noctol, zeilus, beldum, nidoran femmina, cacnea, utut, ivi, nidum, nidoran maschio, reverse e bidrill raro. Queste aperture le sto facendo sempre da sotto, non c'è niente da fare. Stavolta le faccio da sotto e al contrario. Ok. E il milionesimo B-sharp. Execute, nidorina, ivi, vanillite, orsi, trico, grimer, time pole verse e reshiramolo. che io ho già. E a idrego nolo non vuole uscire. Non so se ve ne rendete conto, su tutti questi pacchetti e ho trovato una idrego nolo. Vaporeon, vaporeon, miltank, grovail, wupper, voltorb, paciriso, deino, snizzle, mac reverts e vanilluxe raro. Ancora niente di interessante in questa sesta parte. Non penso di non trovare niente. Vediamo un po'. Allora, trio scuro, onyx, sidra, weedle, poniard, macuita, wupper, monkey, grimer reverse ed executor raro. Ah, mi sembrava strano, ok. C'è, c'è arrivato, si è fatto attendere ma è arrivato. Vediamo cosa c'è. Giolteon, staravia, nidorina, orzi, yamask, weedle, ivi, trico, crocorocreverts e deoxys ix. Che questo mi manca. Perfetto, benissimo, queste sono delle aperture fantastiche. Pensavo di non trovare niente in questa sesta parte, invece ho trovato deoxys ix che mi manca. Allora, città congelata. Kakuna, miltang, sandai, yamask, litwik, primate, cinciu, crayogon al reverse e absollolo. Che anche questa ce l'ho. Ultimo pacchetto di questa sesta parte, con deoxys. teamplasmaball, execute, crocoroc, nidoran femmina, timepole, deino, vanillite, primate, reshiram, raro reverse, fantastico. e wewile, raro. Perfetto ragazzi, io e deoxys vi diamo appuntamento per la settima e ultima parte. Ciao ciao!